Sono qui con Andrea Savorelli, colui che mi ha aiutato alla realizzazione di questa bellissima mostra sulla moto Lamone. Adesso gli do la parola in modo che anche lui possa dire due parole, un suo commento sulla sua passione per il Lamone e sulla mostra. Grazie Matteo. La mia passione per queste moto qui, Lamone e le moto da corso in generale, è nata in famiglia da mio babbo perché nel 1971, la stagione che hanno vinto l'italiano con questa moto, lui c'era con loro, faceva il classico ragazzo d'officina, lo sgargino e li aiutava in officina, nelle gare e quant'altro. E niente, mi ha trasmesso la passione per queste moto qui, le moto da corsa, anche altre moto da corsa perché adesso io faccio il meccanico nella moto 3 nel campionato italiano. Per citare i nostri piloti nella moto 3, Marco Bezzecchi e Federico Caricca Zulo. E niente, dalle moto da corsa è nata la passione anche per le moto d'epoca, da corso e stradali. E essendo venuto a conoscenza anche che qui a mezz'anno c'è stata questa realtà, questo motore che ha vinto tante gare, che ha partecipato a tante corse e hanno ottenuto tanti bei risultati, mi sono appassionato e mi sono interessato. Insieme a Matteo abbiamo organizzato questa bella manifestazione che a mio avviso come inaugurazione mi sembra che sia stata ben riuscita. E se chi ben comincia speriamo anche o di replicare o di comunque proseguire per questa strada.